Si accelera per i lavori al maschio Angioino entro febbraio e prevista la fine della messa in sicurezza straordinaria per il cedimento dello scorso 10 ottobre sulla facciata est. Il cantiere nato in circostanze di emergenza ha portato un risultato utile, ha fornito una serie di indicazioni e tecnici di comune soprintendenza sullo stato delle murature di Castelnuovo. Informazioni queste propedeutiche per velocizzare l'intervento di messe in sicurezza e di restauro definitivi su tutte le facciate. Il progetto è pronto, si attende l'arrivo di un finanziamento da 18 milioni di euro promesso dal MIC. Era lo scorso 10 ottobre quando da un'altezza di oltre 10 metri crollò al suolo sul marciapiede di via Acton una pietra del rivestimento spessa circa 20 centimetri, fortunatamente senza colpire nessun passante. Oltre al cedimento si notò una lesione profonda con seni di distacco su una fila di blocchi in bilico sulla parete, tanto da far predisporre l'ampio transennamento lungo tutta la facciata del bastione. L'intervento di consolidamento sta per essere portato a termine ed è costato 62 mila euro.